Allora, per motivi familiari e per motivi privati hai chiesto un primo finanziamento nel 2007 che hai chiuso nel 2009. Dopodiché hai tentato di fare un altro investimento, un altro tipo di operazione nel 2009, ma la storia non è stata altrettanto positiva. Ho iniziato a pagare per un importo ben più superiore alla metà del mio stipendio e più del 50% di quello che pagavo in precedenza, ma a un certo punto ho chiesto un piano di ammortamento perché non mi arrivava. Questo benedetto piano di ammortamento non è mai arrivato e lì ho scoperto che era invece un revolving, quindi una carta revolving che, come dire, man mano che pagavo si ricaricava. In realtà ad oggi, pagando una cifra molto alta per sei anni, io pensavo di averlo estinto questo debito e in realtà non è così, perché ad oggi mi chiedono circa 30.000 euro ancora. Io ho chiesto di nuovo spiegazioni e ho mandato un'ulteriore lettera dove mi hanno detto, guardi, non ci sono altre parole, facciamo una bella roba, chiudiamo questa cosa, accendiamo ancora un altro finanziamento della somma di 30.000 euro più 17.000 euro di interessi da pagare in circa 15 anni. Dopodiché finisce così e io dico, no, perché non li devo, secondo me, questi soldi, quindi cortesemente ho bisogno di conteggi, ma non è così difficile poi da fare il conteggio dell'estinzione. Mi dice, no, non si può fare diversamente. Finalmente ho trovato un professionista, un avvocato che fa diritto bancario ed è quello che mi sta aiutando, perché abbiamo fatto fare a questo punto una perizia con i loro estratti conto, dove risulta che io non devo assolutamente nulla. Ma questi signori, oltre a non rispondere, continuano a chiamarmi, continuano. Quindi oggi per me dirvi questo vuol dire fare un appello a coloro che comunque credo siano nella mia situazione, perché non credo di essere la sola, assolutamente. Credo che ce ne siano tanti in Italia purtroppo. Quindi voglio solo dire che da un revolving è un tunnel dal quale difficilmente si esce se non si viene aiutati.